Ciao 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 Nome? Giulia Anna Lisa Laura Cosa ti rende sicura di te stessa? Il mio carattere? Le soddisfazioni Uscire alla mattina con un filo di trucco Essere positiva Poi quando mi trucco il make-up mi fa vedere bella nello specchio e questo mi rende sicura Se potessi avere un superpotere quale sceglieresti? Tre trasporto Ah sicuramente vorrei il superpotere di pulire casa solo con lo schiacco delle dita Vorrei leggere nella mente delle persone per capire effettivamente cosa pensano Cosa non può non esserci nella tua pochette? Mascara Il rossetto e la matita per le labbra Matite, gloss, lucida labbra Trucco come verità o maschera? Verità Verità Come verità Devi risaltare quello che sei Con il trucco io sono me stessa Gonna o pantalone? Pantalone 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 Tacco o sneakers? Sneakers Purtroppo Sneakers Però ci vuole il tacco ogni tanto Cosa rende una donna affascinante? Gli atteggiamenti, l'eleganza soprattutto Il sorriso, lo sguardo, la personalità Il carattere Una donna è affascinante dentro Cos'hanno in più le donne? Non credo che abbiano niente in più Credo che senza le donne il mondo sarebbe un po' più cupo L'eleganza Tutto In cosa sono carenti? Nella forza fisica Spesso si dimenticano quanto sono forti e si sottovalutano Non credo abbiano nessuna carenza Farebbe iniziale a parto Cosa vuol dire per te essere una real woman? Questa Sono questa Questa voglio essere Significa essere una donna che non ha paura di far vedere le proprie emozioni E di entrare in empatia con chi le sta accanto Una donna forte Una donna con le palle Con carattere Che sa affrontare ogni evenienza e ogni difficoltà